Denis Cavatassi, l'imprenditore di 51 anni di Tortoreto, è tornato finalmente a casa, dopo essere atterrato a Roma e voluto tornare nella propria abitazione di famiglia, dove ad attenderlo c'erano i familiari che non l'avevano raggiunto nella capitale dopo il suo rientro e la piccola Asia, sua figlia, che in queste settimane stava trascorrendo le vacanze di Natale con i nonni. Un intenso momento atteso da anni dalla famiglia, dagli amici e dall'intera comunità cittadina che seguivano con apprezzione la vicenda. Denis ha vissuto gli ultimi anni in un penitenziano in Tailandia con la spada di Damocle e di una condanna alla pena capitale. Poi l'unidì scorso la Corte Suprema Tailandese lo ha assolto da ogni accusa rimettendolo immediatamente in libertà. Un grande regalo di Natale, un sogno che tutti ci sparavamo e che alla fine è riuscito, per fortuna. Una cosa grande perché alla fine ti riapre il cuore, ti riapre la vita proprio perché poi l'Italia è un paese stupendo non solo dal punto di vista culturale, storico, artistico, ma proprio il popolo, è un popolo bello proprio. Parliamo della sua detenzione in carcere tailandese, che vita è stata lì? È stata un'esperienza durissima per le condizioni fisiche e psicologiche, però alla fine per fortuna l'essere umano ha un istinto interno di sopravvivenza che nei problemi duri ti aiuta. Poi tante volte ho pensato a mio nonno che è stato prigioniere durante la guerra sotto i tedeschi, per cui forse è stato un periodo ancora peggiore del mio, anche se prima erano più abituati alla sofferenza rispetto al nostro periodo storico. Quando le hanno detto che era libero, qual è la prima cosa che ha pensato? È che alla fine, per fortuna, la giustizia è venuta fuori, ha fatto il suo corso. Che poi questi errori succedono in tutto il mondo e quindi inizialmente ero molto arrabbiato, soprattutto con il sistema giuridico tailandese, con la polizia, perché alla fine ti senti... Però alla fine capisco che sono cose che succedono, perché l'uomo sbaglia e bisogna stare attenti a giudicare, a ditare, perché siamo tutti esseri umani. Quando ti ho potuto riabbracciare la sua famiglia e soprattutto sua figlia? È stato il regalo più bello, perché poi la sofferenza più dura è stata quella proprio della separazione della figlia, perché avere una figlia a 40 anni non è come averla a 20 anni, c'è un rapporto speciale proprio, per cui toglierti un figlio è la pena più grande.